E benvenuti natori, sono Gio e bentornati, sono video di Pokémon GO! Bomberoni, questa sera alle 20 terminerà questo bellissimo evento, spiaggia e relax, quindi abbiamo ancora un po' di tempo, ma fino adesso come vi è andata? Avete trovato qualcosa di interessante, magari anche i due fantastici Shiny, Slakot e Komala? Allora Bombers, eccoci qua, partiamo in game, attenzione, attenzione, Shiny check, Tangela e abbiamo Sudo Voodoo, che qua, che cacchio di nido è raga, forse è rimasto quello di Sudo Voodoo? Sì, è arrivato l'estate ma una roba pazzesca, insieme a lui anche le zanzare. Dovrei avere due missioncine, molto bene, che adesso andiamo a prendercene ancora altre, raga, prima che finisca l'evento questa sera. Dai, 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 dammeli, amo il Gumi, no Gumi, ancora quella del community allora questa. Ammazza, da quanto tempo ce l'ho qua? Quindi da domenica, raga, questa qua però, attenzione, eccolo qui, dai lo Shiny. Oggi dobbiamo fare veramente una marea di cose, ma volevo ragazzi vedere un attimino, 100% sembra... Cosa? Ma dai, ma no, Slakot, quello che abbiamo appena catturato, raga, 830 punti lotta, fatemelo visionare. Eh sì, 100%, penso da missione, fatemi vedere, ha catturato... Ah no, ha lo stato selvatico, quindi non proviene da una missione. Ma quanto cacchio l'ho catturato, raga? Assolutamente, preferiti, mettiamolo, etichette 100%, e voilà, raga, guardate qua che bellezza. Poi dobbiamo ancora andare a fare la evolution, infatti vedete qua che non le ho ancora fatte le due sue evoluzioni. Ah, molto bene, di missioncine ne sto trovando, raga, infatti guarda qua, le sto farmando. L'obiettivo è sicuramente quello di trovare Slakot Shiny, ma anche il Koala. Visto che poi appena ha debuttato possibile Shiny, dobbiamo trovare, raga, bellino, bellino il Koalino. Ma allora andiamo subitissimo a mettere Pezzo Stella e Fortuno Evos. No, ne ho solamente uno, raga, porcaccia, devo farmarne un bel po' di questi Fortuno Evos per Madrid, raga, perché vorrei arrivare chiaramente a Madrid a avere un bel po'... No, un bel po', ad averne qualcuno da andare a utilizzarlo lì al GoFest di Madrid in presenso, in presenso. Ok, startati, quindi raga, andiamo. Cos'era lì? Ah no, su dovuto, su dovuto non mi interessa. Andiamo dunque a prenderci tutta l'ambaradan qui, allenatori, guardate quanta roba. Quindi prendiamoci prima gli oggettini, dunque 30 Pokéball, abbiamo 20 lampone normalissime e sotto quelle un attimino più succose, 3 dorate. Solamente 3, raga, avrei preferito magari le altre, ma va bene, va bene così. Attenzione, iniziamo con i Shiny Check, che poi questa qua, raga, prima parte, ma abbiamo ancora 30 giorni dal momento in cui sto registrando io per completarla. Cioè, super tempo, super tempo, dai, 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 vediamolo, vediamolo. Shiny, Swablu, ok. Va bene così, raga, perché tanto c'era stato anche il suo Community Day, avevo già partecipato. Una marea di Shiny suoi, dai, chi l'è qua? Attenzione, Sandegas, non c'è Shiny. Ma chiaramente noi andiamo alla cattura per cercare il 100% di quelli che non ci sono, appunto, cromatici, Cloucher. C'è lo Shiny, raga, e voi lo sapete quanto cos'è. Uno o due mesi fa, raga, ero veramente dietro di corsa, perché qua c'era nido, addirittura, in questo parchetto qua, era nido di Cloucher. Però purtroppo non mi era riuscito lo Shiny. Molto bene, possiamo completare dunque questa prima parte, che adesso, raga, scopriremo. Voi sicuramente lo sapete già, vediamo se apparirà fuori un altro step Lapras. Vediamogli un po' al volo come sono messi tutti dei ciospi. Fantastici, ammazza che fantastici. Pokémon Sleep, eccola qua, raga. Praticamente avete visto come settimana, inizio di questo evento qua, vi ho mostrato, grazie al Pokémon Plus Plus, come andare a collegarlo col vostro account qui in game, perché senza il Plus Plus non si poteva andare avanti con questa missione. Perché una delle tre missioncine che abbiamo qua ci richiedeva di registrare i nostri dati del sonno. Eh sì, Go Plus Plus, oltre che catturare Pokémon, girare Pokéstop, fa anche quel lavoro lì. Infatti, ditemi in post, ci sono ancora allenatori che giocano a Pokémon Sleep. Dopo, se caso, vi mostrerò come fare, ma andiamo avanti, raga, perché ci sono due step e non vorrei che nel secondo step ci richiede cose. Qualino! Seconda, dai, dai, quale ancora. Slakot, normale. Però tutto sommato, raga, Slakot 100 lo abbiamo trovato. Ci rimane lo Shundo, eh. Dobbiamo trovare lo Shundino suo. Oddio, eccola qua, raga. 413 fonti lotta, sì. Non è il 100, raga, non è il 100 perché l'abbiamo visto. Ammazza, ma che bello. 413 punti lotta. Eccolo qua, il nostro primo, unico, primo e unico, Slakot Shiny esclusivo, eh. Perché già possedevo, ve l'avevo già detto, c'era stato il suo Community Day l'anno, no, l'anno scorso, anni fa, raga, appunto, di Slakot. Io andrei così, perché tanto non ci può scappare e sicuramente con Pokéball, appunto, è da missione, raga. Attenzione perché era la missione del Plus Plus, avete visto? Quindi se non andavo a utilizzare il Plus Plus, molto probabilmente non andavo a trovare Slakot esclusivo Shiny. Che bellezza, raga, che bellezza, che goduria, che soddisfazione. 413 punti lotta, eccolo qua. Attenzione. Ah, tre stelle, ragazzi, tre stelle. Un po' in sci, un po' così così, ma mi va super bene. Anche perché poi lui possiamo evolverlo, dovremo trovarne anche altri, raga, ammazza, ammazza. Ma va benissimo, va benissimo, che tanta roba, bene, bene, bene. Ci stiamo preparando per Madrid, gli Shiny, vedete, che stanno venendo fuori. Uh, che bello Snorlax con il cappellino qua, esclusivissimo. E sinceramente, raga, se dovessi scegliere, è molto più raro questo Snorlax qua. Che Slakot, perché lui si può trovare selvatico e da missione, raga, mentre lo Snorlax qua, solamente, appunto, da queste missioncine qua un po' particolari. Sempre riguardanti il Plus Plus, ma vediamolo un attimino, no, una schifezza, raga, una schifezzina. Vediamo un attimino, dunque, eccolo qua, tieni traccia per due giorni, raga. Ok, abbiamo due giorni, quindi quasi quasi vi mostrerò qua come fare, come andare avanti su questa missione. Soprattutto direi per la prima, quella di tenere traccia del nostro sonno per due giorni, mentre per il primo step che abbiamo appena completato era solamente per un giorno. E invece le altre due sotto sono semplici, ragazzuoli. Quindi scrivetemi sotto nei box commenti se volete il video dedicato su questa missioncina qua. Go Plus Plus, come collegarlo, come funziona e tutto. Così almeno ci completeremo anche questa, non sia mai che ci esca un qualche altro shinino allenatori, ma direi di racimolarci anche questa, spiaggia relax. Dunque, andiamo a prenderci 3000 di punti esperienza che poi raddoppiamo perché abbiamo pezzo stelle fortunovo attivi. La solita Pokéball che ne facevamo anche a meno, infatti ne sto cancellando, raga, per farmare Ultraball o Megaball. 1000 polvere di stella e sotto, attenzione, raga, dai, dai, dai che ci dà il coalino. Non ci mancherebbe solamente il coal, la raga, e abbiamo veramente sbancato per questo evento. Dai! No, è ancora Slagod. Eh, se fosse stato un altro shiny non lo lasciamo assolutamente qua. Che diciamo anche ci è andata di sculo perché guardate lì lo shiny. È quello più alto in punti lotta. Madrid, stiamo arrivando, stiamo arrivando a diarci un po' di oggettini super rari. Magari un oggettino shiny, il cromavoleto. Ma attenzione, raga, perché ho visto che ho completato finalmente, eccola qua, la ricerca di Shaming Shiny. Era ora, raga, il sesto step, quindi andiamo a raccimolarci tutto qua, tutto qua che abbiamo caramelle rare. Sotto abbiamo punti esperienza e polvere di stella e un incontro. Attenzione, raga, andiamo a raccimolarci la nostra polvere, i nostri punti esperienza, visto che abbiamo appunto Fortunovus e Pezzo Stelis. Attenzione, raga, eccolo qui, guardate che bellezza. Eh, però no, la cattura di Shaming Shiny non la faremo oggi. Infatti, eccolo qua, messo in saccoccia, ma vediamo se possiamo prendere, raga. Molto bene, possiamo già completare magari anche la missione, così almeno sfrutto, vedete, Pezzo Stella e Fortuno nuovo. Bene, raga, bene, 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 che bella roba questa qua che non devo andare a catturare il Pokémon. Ed eccolo qua, Shaming Shiny, raga, chissà come sarà in punti lotta. E io direi di sfruttare gli oggettini che ho messo, raga, guardate qua, quanto cavolo di punti esperienza, ma anche sotto di polvere di stella. Alla riscoperta di canto che non so da quanto cavolo ce l'ho qui, raga. Raga, attenzione, andiamo a prenderci una scaterba qui di punti esperienza. E addirittura anche sotto, oltre la polvere di stella, 10.000 di polvere di stella, una incubatrice, così che ci va super bene, raga. Che poi, appunto, aumentiamo il tutto con Pezzo Stella e Fortuno Evo. Qua sotto addirittura il community dedicato a Squirtle, allenatori, che vado a raccimolarmi. Anche questa, perché prima di venerdì, chiaramente, voglio andare a terminarle, eh, tutte queste missioni qua. Perché quando sarò giù al GoFest di Madrid, raga, voglio dedicarmi solamente a normale, alle missioni speciali e in generali del GoFest. Dove è andato? Squirtolino, eccolo qua sotto. Quindi completiamo e ci catturiamo addirittura un Blastoise, raga, con la mossa Legacy. Ah, sì, ammazza, che bello, ammazza, che bello. Eccolo qua, guardatelo. Fantastico. Sto facendo le varie evoluzioni, mi rimane solamente SandyGast, quindi, raga, andiamo a vedere se ne abbiamo, che non li ho eliminati. Sandy, 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 eccolo, no, ne ho, ne ho, ne ho, 98, oddio, non mi ricordavo, eh, 98, eccolo qua, direi sicuramente di andare a far lui, raga. Che non mi ricordo, eh, se avevo fatto la sua evoluzione, perché aspettavo, chiaramente, non lo so, di uno Shiny, di un Community Day, appunto, raga, di un qualche evento, di trovarne uno forte. Vediamo, vediamo, vediamo se avevo fatto il Castello di Sabbia, perché la sua, eccolo qua, infatti, ma che Pokémon, raga. Il Palo Sun qua, che è una roba incredibile, sì, si vede che l'avevo già registrato, va benissimo, 98%, bellissimo, ragazzuoli. E, eccola qua, baggatissima, l'abbiamo completata la sfida di collezione. Molto bene, raga, direi di andare a raccimolarcela subito. Ed eccola qua, sfida di collezione dell'evento Spiaggia e Relax, voilà, oggettini a noi. Abbiamo anche un Shiny Check, non lo so, raga, non mi sono spoilerato qui. Chi c'è all'interno? Dai, dei coalino, porcaccia! Porcaccia! No, raga, stavo potenziando, ho fatto un fail assurdo, guardate qua, infatti, lo Slakot di prima l'ho fatto evolvere per sbaglio. Bomberoni, allora direi che per oggi, da Gio è veramente tutto, prima che vado a combinare qualcos'altro. E allora, Bomberoni, mi raccomando, fatemi sapere come vi è andato a voi l'evento Spiaggia e Relax, se avete sculato con Shiny Slakot o Komala, e soprattutto ditemi se volete il video dedicato al Plus Plus. E per oggi, Bomberoni, da GamerGio è veramente tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e se il video, raga, vi è piaciuto e vi è stato utile, vi invito a lasciare un bellissimo like. GamerGio vi saluta e ci vediamo alla prossima. Ciao Bombers!